buonasera a tutti sono luigi onaracca perita e bentornati su baldo's gate 3 allora 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 mi sta piacendo un botto quello che sto facendo baldo's gate sta diventando il mio gioco preferito dell'anno ve lo dico già non abbastanza certo ha vinto il gothi in ogni modo sono due milioni di modi per giocare a sto gioco due milioni ci sono e non capito quanto stiamo andando avanti davvero perché boh ma eccoci allora lasciamo l'accampamento vediamo un pochino quale sarà il nostro prossimo obiettivo direi questo e poi tornare dai goblin andiamo di visitare questa parte qua oh caramellina questo team poi mi sembra di un equilibrato imbarazzante premio il tasto ps per ulteriori informazioni ok di qua non possiamo più avanzare un salvataggio cos'è sto non li avevo visti tantacinque sì ma questi sogno grossi stanno tutti da me comunque questi qua è un bene perché io se la riesco a lanciare un bel incantesimo ad aria faccio pentire di essere nati ma faccio se corre ma faccio se corre che è l'uccio naturalmente il tuo incantismo principale è bello che è andato a quel paese perché non ho fatto la tua abilità è una situazione peggiorata non ho lotte due di incantesimi quindi questa sarà terribile come fight questo è il top guardi in furia guardi in furia se non ha il modo di... la tua famiglia o che l'ha? ooooh! ma davvero... che avevo visto questa cosa? ah ma no, allora è soltanto quello forte è solo questo qua, quello forte gli altri sono dei pipponi tipo Gale è morto tipo ormai allora ho passato il turno, sono un idiota si sono comunque tutti l'arco, c'è una cosa imbarazzante che vogliamo no no Ah? Fuck yes. Another fight. Let's go. With haste. The shock of the psychic pain, the pack lead is on to you, you see yourself through her eyes, her pulsing red cluster of organs feast, no, the voice has forbidden this mate. Now I'll see your whole world as a meal, okay. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. As the symbol glows, power goes through you. Autority. ... Cerca nella sua mente, use il potente per obbligarlo obbedire alla voce, affrontare le fiamme cibassi da cane nascosta nella caverna. E affrontano le fiamme si suicidano. Si faranno troppi danni Penso eh, perchè se hanno ucciso i tizi ci rimango male Così c'era Perché vuol dire che ho visto male come funzionava Senti la tua presenza, la Gnoll's Tadpole ride Il suo host will feast on Gnoll's Tadpole Per controllare la Gnoll's Tadpole Non è andata come volevo Ho capito male come funzionava il tutto Ho capito sinceramente male Pensavo reggessero Pensavo che ci fosse talmente tanto fuoco Che morissero nel tentativo Così non mi interessa Sinceramente non è questo che volevo fare Ok, si può fare facilmente la fight Per non combattere un livello 5 con quasi 100 HP Oggettivamente un mini boss Però Chi mi... Non ho visto che potevo evocare graffi Un secundus Che ha in abilità Ah Che giorno Oh, I could go for a good meal. Let's move. Eccoli qua. Facciamo con molta calma. No. No, ma questo andrà abbastanza in calma, ragazzi. Questa è la situazione non è poi della migliore. Graffio cosa può fare? Ecco la zona che ha mosso. Scout, nascondersi, conge dalle evocazioni. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Non mi aspettavo ad esse problemi un topo. Vabbè, sono messo bene. No, 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 no. Fallisce criticamente. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Ma che cavolata è che nascondersi è diventato un malus? Quando il simbolo gliava, il potere corso attraverso te. se mi fa cagare sta cosa no no io che pensavo no questo è rimasto sinceramente male ragazzi in pratica che è successo io mi ero posizionato in un modo intelligente solo che poi ha resettato tutto perché il topo si è fatto vedere è una cazzata è una cazzata è assurdo che io sono andato a crearmi il modo perfetto per muoipg mettendomi quelli a distanza da una parte quelli colpo a colpo dall'altra se ne sia fottuto il gioco questa è una cavolata avrei dovuto mettermi loro due là davanti gli altri dietro non tutti insieme tutti insieme e sinceramente è una cavolata assurda che non riesco a capire davvero è una modalità che non riesco a capire I've got a long road ahead Need to find a way forward What now? I don't know if you want to find a way I don't know if you want to find a way I don't know if you want to find a way I don't know if you want to find a way I don't know, I think I think I can see that You see the whole world as a meal This voice is acting as a leash But it won't hold them for long A memory The beast dolbs the symbol of the absolute on a very As the symbol get on Power courses through you Authority Oh In pratica la storia è così che si fa questo, vanno ammazzate tra di loro, tanto quelli là sono deboli. Oh 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 Ok, intanto mi preparo ad ammazzarlo dopo. No What's it gonna take? Grazie a tutti. Non puoi sempre essere un giovane. Dio santo. Fallimento critico. Fallimento critico col 55% di attacco. Oh no. Ah, finito il topo. Non capito dove volesse andare. Poi ammazzare quello sarà complesso. Esistente come non so cosa. Non c'è... Oh Ah, time to push my luck again On my way Unleash me No Vabbè Quindi è troppo grosso che non è qua Sinceramente mi preoccupa C***o Danni Perché poi perdiamo gli altri Grande, questo mi è piaciuto No 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 Il 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 No, 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 no. No, 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 no. Of course. Oh, no, 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 no. Watch this! Over there! Okay. Hmm. Hmm. Okay. 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 I'm going to turn it over. Okay. I'm going to turn it over. I'm going to turn it over. Okay. I'm going to turn it over. I'm going to turn it over. I'm going to turn it over. Okay. Okay. The flesh of her pack wasn't enough to satisfy her. Okay. I'm going to turn it over. I'm going to turn it over. I'm going to turn it over. Hmm. Sometimes the only way out is through. Oops. Okay. Good. Good. It's hot in here. uh uh this'll help i speak they burn Oh e molibus che è sangue vabbè un coglione il No! Sì! So the whole reason we're in this mess! He gets his shiny... Terence are the currency of the Zentarend. A network of merchants and mercenaries with few scruples. You know who we are. Very clever. This is the point when a clever lad like you accepts my gratitude and walks away. Devo. Faffanculo. Questo è il simbolo dell'Absolute. Markato in blu. Ah, il mio preferito compagnolo. Matta frutto chiodato. Sono ridotti molto, molto, molto male ogni fa. No, no, che stavo troppo. Allora delle altre serenbezze. Non loоновo. Evi messi. Allora... Allora di..." il carica Minchia ho più 8, vedo quale è impossibile sbagliare. Abbiamo raggiunto il limite della mappa da un lato. Ok. 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 It's our lucky day after all. I don't feel lucky. The rest of our crew's off digested, and you're still alive. Can't give up now. For pochissimo. Diavolo. Allora... 8.13. Ah, cavolo. Bruttarello. Cioè, in pratica... Se non colpisci un nemico ogni turno, potrei impattire. Eh, cattivello. Mentre... Questi... Immediatamente. Ok, io voglio buttare questo, però. Ok. I hope this ends well. Grazie. 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 Allora. Andiamo a visitare questo posto. Abbiamo anche un girino in realtà. Oh. Mi che male. Addirittura. No. 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 Sì, c'è un po' di sottotitoli. Un paladino che cos'è questo? Oh! Abbiamo un bel po' di soldi di robine intere senza raccogliere! Oh! Cosa! Oh! Cosa! Va bene! Ok, a potuto parlare non era questo. Oh! 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 Ma funzionano sti buchi del cunicolo? Oh! Hmm. Non essere mai potuto così.. ... ... ... ... ... ... Ed Grazie a tutti. per poco No! No! Sì! Sì! Trish, mamma. Let's go, kid. Oh signor onipotente. Per piacere. Io non voglio incavolarmi, allora vediamo un attimo la testa su cosa fare, a quanto sto capendo abbiamo tipo lo sputo e mezzo di vita e quindi qualsiasi cosa accadrà finiremo per implodere al primo po' dobbiamo fare poi un pochino di questo po' possiamo ricaricarci di questo pochino di questo pochino di questo pochino di questo pochino. Ok. 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 Sì, guarda! Help! Cork, pop it and we'll be served a firestorm. Stop wasting time! Vabbè, poi si visita tutto questo posto. Vabbè, poi vabbè, poi vabbè. Ok Non lo so Non lo so Non lo so Non lo so azzà incantesimi cosa vuole venire come spero di più no che due palle no 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 dormiamo dormiamo rifulliamoci e poi visitiamo il posto no 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 Ok. ah di base vendiamo un po di roba al nostro amico qui di base lo dobbiamo portare per la prossima missione grazie a tutti ok oh il gufo è il gufo del cuore è il gufo del cuore che hai scelto 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 ok è il gufo del cuore è il gufo del cuore che hai scelto è il gufo del cuore 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 aspettate perché si può evitare può assolutamente evitare abbiamo un gale con gale si può assolutamente evitare tutto quello è assolutamente evitabile con la creazione dell'acqua c'è un oggetto verde devo capire che cavolo è quell'oggetto verde allora se avessi aperto la porta sarebbe morta la tizia al momento usciamo quindi su azione no no l'oggetto si è distrutto di nuovo ok ci deve essere un modo qua per impedire a questa roba qua di esplodere la c'è un oggetto importante se è verde vuol dire con oggetto raro se in qualsiasi modo noi apriamo qualcosa no 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 Grazie a tutti. 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 E' bello che mi faccia pensare così tanto come ottenere un oggetto del cavolo. E' anche a dire che stai cercando di ottenere un oggetto. Allora. 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 Allora.